Non si paga più la seconda rata dell'Imu sulla prima casa. A stabilirlo, il Consiglio dei Ministri, convocato nel pomeriggio dopo che l'Aula del Senato ha dato il via libera al maxiemendamento sulla legge di stabilità, esentati dal pagamento anche i fabbricati rurali e terreni agricoli nella parte coltivata. Era un impegno che il Presidente del Consiglio aveva preso e abbiamo voluto assolverlo oggi, anche se siamo appena reduci dal voto sulla legge di stabilità e di tutto il maxiemendamento. Quindi c'è stato un lavorio molto intenso in questi giorni e quindi i dettagli ve li daremo soltanto un po' più tardi nel corso della giornata. Brevemente, ripeto, siccome i dettagli del decreto sono ancora in fase di finalizzazione, saranno poi spiegati meglio nel decreto, posso dire appunto che l'importo della rata dell'Imu, che è complessivamente di 2 miliardi e 150 milioni, compresi gli immobili strumentali agricoli, viene coperta essenzialmente con misure a carico del sistema bancario, in particolare per una quota di un terzo viene coperta con anticipi sulle imposizioni sul risparmio amministrato e per due terzi con un aumento di anticipi sull'Iras e l'Irap, che saranno poi, sono anticipi a fronte di un aumento dell'aliquota IRPEF e IRAs per il 2014. Insieme all'Imu, all'ordine del giorno, anche la rivalutazione delle quote di Banca Italia, una misura, ha spiegato Saccomanni, che consenta alle nuove quote rivalutate della Banca d'Italia di essere incluse nel patrimonio di vigilanza delle banche stesse. Siamo in contatto con la Banca Centrale Europea e abbiamo, diciamo, l'opinione della consulenza legale è positiva, il parere deve però essere, diciamo, formalmente approvato dal Consiglio dei Governatori, quindi questo richiederà qualche giorno di tempo in più, però il senso, di solito, insomma la proposta, quella che conta, è quella della consulenza legale della Banca Centrale Europea, poi deve passare per, come dire, una procedura per corrispondenza, diciamo, ai Governatori che prende un po' di tempo, ma insomma, comunque, siccome si tratta di un decreto, quindi che deve essere convertito in legge, se ci sono delle piccole modifiche di carattere formale, c'è tutto il tempo per recepire, è un provenimento che le banche gradiscono perché accresce la loro patrimonializzazione nella fase in cui si approssimano questi stress test, appunto, sulla adeguatezza del capitale delle banche, sulla loro capacità di fronteggiare rischi di perdite e altre evenienze negative, era importante che già a fronte del capitale, del patrimonio di vigilanza del 2013, le banche potessero contare su questo fronte.